Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo ruolo di microfono perché, se no, sono qui per farvi la reaction del trailer di After che manco il coronavirus, manco la pandemia, il lockdown, hanno fermato questo scempio e quindi facciamo la reaction. Ovviamente io ho cellulare dei madre che c'ha il gatto, lasciamo perdere, comunque vabbè. Non ho fatto una reaction, cioè ho fatto la reaction al secondo, non ho fatto una recensione perché ci sono persone che riescono a farlo molto meglio di me. Sta di fatto che il secondo è di una noia mortale, cioè se vogliamo riassumere il secondo è una noia, scene di sesso che sono ridicole e la trama è mandata avanti dal nulla. Per poi arrivare al finale che arriva il padre di lei che fa il barbone, punto e stop. E sti due, più che essere due adolescenti, sembrano due babbaloni, come direbbe la Leosini. Quindi non so quali sono i presupposti perché sinceramente di maturità io ne ho vista veramente poca, ho visto veramente poco scene sensuali, poi c'è lei che è veramente imbarazzante. Allora, after trailer, tre trailerita, vediamo. Ah, c'è lei sversa, cioè c'è lei così che guarda non si sa cosa, io ho un po' paura sinceramente, guardiamo. Ah no è la pubblicità, no no è la pubblicità. Mi avevo aspettato che ci sono detto, cos'è? Cioè è lui che mette le dita dentro il bicchiere, ma cos'è questa cosa? Ma perché? Cioè ma sembra l'inizio di The Lady, ma... Cioè c'è già un crossover tra after e The Lady, bellissimo. Ma chi è questo? Scene di sesso? Allora, c'è un tizio che non ho capito chi sia, e poi ci sono loro due su sto yacht. Ma da quando Ardyn, che si aveva i miliardi del padre, ostenta questa riccanza? Da quando, scusatemi? E lei vuole andare a Seattle. Proseguiamo. Sesso? Scene di sesso, orgasmi, vabbè. Il terzo capitolo del fenomeno letterario mondiale. Un'autostrada. Ma chi è sto tizio? Ah, è il cameriere. Cioè lei sta, praticamente, quando è sversa, sta facendo gli occhi dolci al cameriere e ora lui si alza e lo mena, sicuro. Storico in qualcuno è molto complica. Ancora scene di sesso, ma basta. Si fa un selfie. Eh, cosa, cosa, cosa? Cos'è quel coso lì? Cos'è quel tatuaggio? Vabbè, lei è sopra di lui. Vabbè, la ma. Si fa un selfie. Allora, lui, praticamente, gli hanno fatto una pettinatura a mo' di leccata di vacca. E il tatuaggio... Ma che tatuaggio ha, Su? Ma che tatuaggio è? No, scusate, ma che cosa è questa roba qua? Ma cos'è? Ma non ci doveva essere il... Il, come si chiama? La bilancia di forum. Cioè, hanno fatto disegnare i tatuaggi a un bambino dell'asilo. Ma proviamo a parlare, scusate, della pettinatura di lui. Cazzo, l'ha ridotto. Vabbè, andiamo avanti. Allora, il padre dove sta, innanzitutto? Che doveva essere il fulcro della storia. La storia di After, il padre di Tessa, che era un barbone, un colosciare, eccetera, eccetera. Il padre indosta, cesta. Fulcro della situazione che lei vuole andare a Seattle, ma lui non vuole. Riassumiamo tutto con Asilame, che è meglio. Lui che... A un certo punto, lei diventa, si metta fa sensuale, perché lui non vuole andare a Seattle con lei. Poi c'è la scena della jacuzzi, che voglio vederla. E c'è praticamente questo tizio, che è anche molto carino, che praticamente le dà il numero di telefono. E lui glielo sta rinfacciando. Ovviamente, quando non c'è il fulcro, c'è una trama, cosa devi fare? Devi compensarlo con qualcosa. Quindi, con scene di sesso, che sono veramente ridicole. Le dinamiche tra i due sono veramente da asilo. Almeno, nel libro, le dinamiche erano quelle che erano, però almeno avevano un senso. Qui, un senso non ce l'hanno. Tra l'altro, lui dice, Tu sei il mio posto migliore, come se lei fosse, che ne so, un'isola deserta. Boh, non lo so, sincero. Cos'è che dice? Aspetta. Sei il mio posto migliore. Praticamente c'è una parte dei dramma familiari, che dura proprio tre secondi. Cioè, c'è Ardyn, praticamente, che sta parlando con uno. Cioè, lui dice Quando è che esce? Non ho capito la data. Ok. Quando è che esce? Non ho capito. Forse settembre. Aspettate che riguardo un attimo, perché La jacuzzi, che non manca mai, ovviamente. Ah, dal primo settembre. Ok. Allora. Un dramma familiare. Allora, prendendo il presupposto che Ardyn sbotta, Così come un fidanzato geloso, Quando sappiamo che comunque Ardyn ha delle problematiche molto serie, Che poi vengono compensate con l'amore, eccetera, eccetera. Cose che sono altamente sbagliate. Il dramma familiare, diciamo, era il fulcro della storia. Perché poi, tra l'altro, insomma, Poi, vabbè, si vengono a scoprire determinate cose, Alla beautiful, eccetera, eccetera. Il punto è che Ardyn parla con un tipo, Chi è quello lì? Il padre? Che gli dice Avrei dovuto dirtelo tanto tempo fa? Ah, sì, perché forse lui, No, lui era il figlio, Di chi era figlio Ardyn? Mi ricordo. Cioè, aveva scherzo, Oh mio Dio, mi devo andare a rivedere le mie, Devo andare a rivedere le mie recensioni, Perché non mi ricordo, sinceramente. Cioè, Che Ardyn era figlio di Christian Bans? Può essere? Boh, non mi ricordo. Blackout totale o rimosso, Perché il mio cervello è fisiologico, Che rimuova determinate cose. Quindi, sta parlando questo tipo, Che io non so neanche chi sia. Un tipo all'inizio, Che chi è Landon, Un amico così, Non si sa. Gli altri amici dell'entourage, Sono praticamente spariti. C'è un Ardyn che, Sostanzialmente che fa, Che riccanza, Cioè, Questo qui che, Più che Hafter, Sembra dei Lady, Perché veramente, Cioè, queste riprese del, Del motoscafo, Della jacuzzi, E queste cose filosofiche, Tipo, Siamo tutti pazzi in amore, Cioè, Fa veramente molto dei Lady, Sta roba. Io sono, Io sono scioccato, Cioè, Diciamo che avevano, Del materiale su cui lavorare, Tanto materiale, Il punto è che, Sarà come il secondo, Cioè, Loro che litigano, Per delle stronzate, Loro che, Se mandano a fanculo, Poi fanno sesso, Poi se li mandano a fanculo, Poi scopano, Poi lui che fa il geloso, Lui tra l'altro, Nel trailer, Sta menando un tizio, Ma ragazzi, Ha senso, Portare avanti ancora, Sta storia, Cioè, Facciamo un quarto film, Autoconclusivo, Prima e seconda parte, E Buonanotte, Cioè, Noi possiamo fare 20.000 film, Basta, Anche perché, Voglio dire, Se dobbiamo continuare, Con queste dinamiche, Da veramente bambini dell'asilo, Veramente bambini dell'asilo, Scusatemi, Cioè, Io non ho parole, Però le scene di sesso, Sembrano, Un po', Leggermente, Un po', Zozzine, E un po' più, Cioè, Un po' più serie, Rispetto al ridicolo, Delle puntate precedenti, Ma questo forse, È lo zampino di Anna Todd, Perché Anna Todd ha detto, Oh, Io voglio le zozzerie, Come dico io, Va bene? Oh, Signori, Io, Non ho parole, Sinceramente, Non ho parole, Io veramente, Sono shock, Basito, Tra l'altro, C'è lei che sta scrivendo, Un qualcosa all'inizio, Che non ho capito, Cos'è, Cos'è, Il diario segreto, Quando mai lei ha scritto, Un diario segreto, Non lo so, Cioè, Lui che intinge, Le, Le, Lui con una pettinatura orrenda, E lei, E lei è vestita malissimo, Lei è vestita male, Cioè, Hanno proprio risparmiato, Su trucco e parola, Parrucco, Perché, Cioè, Veramente, Non, Cioè, Lui che sta, Sta leccata, De, De, Sto riporto, Cioè, Che manco negli anni venti, E lei veramente, Cioè, Ma manco dal, Dall, Siti cinesi, Cioè, Ma manco da Zara, Non lo so, Vabbè, Comunque, Io non so se andrò al cinema, A spendere, Ehm, Tot soldi, Per ingrassare, Anna Todd, Che ormai è diventata, Cioè, Il portafoglio di Anna Todd, Praticamente, Ehm, A vita propria, Perché è talmente grosso, Che, A vita propria, Quindi, Boh, Non lo so, Se andrò mai, Comunque, Questa è la mia, Neaction, Io sono, Io sono sconcero, Io non ho parole, Giuro, Vabbè, Tant'è, Io vi saluto, E vi rimando, Al prossimo video, Ciao,